Ecco, questo artista mi piace proprio. Mi piace perché Tom Wesselman lavora sui particolari. Guardi queste due bocche, mettono in luce la femminilità. Smoker, solo due labbra e il fumo. Un solo colore dominante, il rosso. La sigaretta per noi donne è stato un emblema d'emancipazione. Fumavano le suffragette, fumavano le donne in fabbrica durante le due guerre, mentre gli uomini erano al fronte. Fumavano le fan fatale del cinema, come l'angelo azzurro Marlène Dietrich. Fumavo anch'io, che dello stile ho fatto un'arte, modestamente.